Fili elettrici volanti di scariche di liquami a cielo aperto e catasti di rifiuti non raccolti è l'inferno del campo nomadi di Palermo dove da anni centinaia di persone sono costrette a vivere nel pericolo. La procura di Palermo ha chiesto e ottenuto il sequestro dell'area proprio per tutelare l'incolumità degli abitanti. L'inchiesta nasce da un primo sequestro d'urgenza disposto un anno e mezzo fa dai vigili urbani che però non venne convalidato dalla procura in quanto non c'era stata una chiara individuazione dei reati commessi. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti ma sotto inchiesta per la gestione del campo nomadi di Palermo potrebbero finire presto i funzionari del comune che pur essendo a conoscenza della gravissima situazione di pericolo vissuta dagli occupanti dell'area sono rimasti inerti. La procura di Palermo oltre alla discarica abusiva ipotizza il reato di omissione di atti d'ufficio accusa rivolta proprio a chi aveva il dovere di intervenire e sanare la situazione di rischio causata dall'accumulo dei rifiuti e dall'accio artigianale alla rete elettrica fornita dall'amministrazione. Il sequestro è stato notificato al capo dei vigili urbani in quanto custode del campo e al sindaco Leoluc Orlando, proprietario dell'area. Il provvedimento, che non è ancora stato eseguito, implicherebbe lo sgombero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Nel provvedimento di sequestro viene ricostruita anche la storia del campo nomadi a partire dai primi anni 90 quando un gruppo di cittadini rom della ex Jugoslavia fuggirono dal conflitto della regione del Kosovo stabilendosi a Palermo nel quartiere Zen prima e appunto alla favorita successivamente. Pronto l'intervento del sindaco Orlando. Questo provvedimento è a conferma della necessità e urgenza di dare attuazione al progetto che è già inserito e finanziato con il PON Metro per la definitiva dismissione del campo attraverso la ricollocazione dei suoi attuali abitanti e l'intensificazione dei percorsi di integrazione. Quello del definitivo abbandono del campo è peraltro un obiettivo che la stessa comunità rom di Palermo si è dato come confermato anche recentemente negli incontri avuti con l'amministrazione comunale. Sul sequestro interviene anche Sinistra Comune. Adesso la città non può più attendere neanche un minuto dopo il provvedimento di sequestro e obbligatorio avviare l'immediata dismissione del campo rom della favorita garantendo un alloggio decoroso alle 20 famiglie che vi abitano da anni. La comunità rom di Palermo è parte integrante della nostra comunità.